un saluto da paolo e benvenuti benvenuti a tutti voi amici di italiano in podcast benvenuti anche oggi a un nuovo episodio questa è la puntata numero 460 di martedì 29 marzo 2022 praticamente marzo è finito fra qualche giorno fra due giorni sarà aprile e questi tre mesi sono volati sono sorpreso dalla velocità con cui il tempo è passato in questa prima parte dell'anno sono volati via tre mesi non ci sono ancora lavori nella mia casa è strano perché alla fine dell'anno scorso era un po preoccupato di non essere pronto in tempo per l'inizio di questi lavori ma poi la burocrazia e qualche ritardo mi hanno fatto tranquillizzare un po non è sempre negativo avere un po troppo burocrazia o come dire sono più preparato all'inizio dei lavori anche se non so ancora bene quando e l'ansia dell'inizio dell'anno è un po sparita ma questa era questa era una riflessione che ho fatto oggi durante questa giornata quello che importa invece che anche in questo 29 marzo anche alla fine del terzo mese italiano anzi italiano in podcast continua e continua il nostro esercizio quotidiano quasi quotidiano l'appuntamento ormai da lunedì al venerdì però cinque episodi sono più che sufficienti per esercitare la vostra capacità di ascolto e di comprensione della mia lingua e quindi anche oggi sono qui per regalarvi un po del mio tempo e per mettere a disposizione di tutti voi la mia voce il mio microfono il mio computer tutto per cercare di dare una mano di dare una mano a tutti voi di dare una mano ai miei studenti diciamo studenti io li chiamo piuttosto amici non sono non mi considero un professore un insegnante quindi non considero studenti le persone che aiuto e non aiuto solo loro voglio aiutare anche le persone che non conosco con questo podcast che ho creato e che ha lo scopo di farvi ascoltare un madrelingua che parla e parla un po di tutto compreso la sua vita quotidiana e come sempre anche qualche notizia dall'italia dal bel paese questo è quello che facciamo questo è quello che faremo anche oggi come dico sempre io ci metto la voce ci metto il microfono voi ci mettete le orecchie e ci mettete l'attenzione l'attenzione per quello che che vi dico ma prima di iniziare il consiglio di ogni giorno il mio consiglio personale consiglio di paolo cercate un posto tranquillo lontano dagli scocciatori dalle persone fastidiose o rumorose e cercate anche un momento tranquillo nella vostra giornata in cui la vostra testa non è piena di troppe cose in cui potete concentrarvi solo sulla mia voce in cui insomma potete rilassarvi e potete dedicarvi a questo esercizio di ascolto quando siete belli e rilassati a quel punto beh sintonizzate le orecchie sulla mia voce e cercate di raccogliere, di prendere insomma cercate di migliorare il più possibile il vostro italiano nuove parole, espressioni, modi di dire, tutto se qualcosa sfugge, nessun problema il podcast resterà sempre a disposizione continuate a sentire, continuate l'ascolto alla fine o con più calma dopo tornate in quei punti cercate di ascoltare meglio e a quel punto quelle informazioni si fisseranno meglio nella vostra memoria e torneranno ad essere utili nel momento in cui volete utilizzarle quindi entreranno a far parte del vostro modo di parlare l'italiano questo è il consiglio? beh, adesso basta con le introduzioni è già abbastanza lunga vediamo un po' quello che è accaduto in questo martedì 29 marzo comincio col dire che il tempo finalmente è tornato bello al contrario delle previsioni meteo la giornata di oggi è stata molto molto bella molto molto calda infatti si parla di un anticiclone anomalo non normale insomma una bella giornata che non è iniziata troppo bene per me forse perché ho registrato il podcast di mattina e questo negli ultimi settimane nelle ultime settimane mi rende un po' nervoso però tutto sommato alla fine non ho finito troppo tardi e c'era solamente questa questo elenco di cose da fare un po' grande che mi riempiva la testa quindi ero un po' preoccupato di dimenticare qualcosa e per questo motivo insomma ero un po' nervoso non rilassato ecco non completamente rilassato nelle settimane scorse ho avuto molti giorni davvero facili perché il mio amore era molto buono gli ultimi due giorni non sono stati esattamente tranquilli ma ho seguito il consiglio di una persona ho scritto in un elenco le cose da fare e quando erano sulla carta in realtà sul computer potevano lasciare in pace la mia testa e potevano farmi rilassare un attimo dopo aver fatto l'elenco di tutto quello che volevo fare in questo giorno improvvisamente il mio cervello si è rilassato un po' di più e quindi ho iniziato la giornata ho risposto subito a qualche email ho fatto una lunga telefonata alla mia società dell'energia elettrica perché volevo verificare alcune cose in realtà sono due giorni che chiamo ma non so nel vostro paese nei vostri paesi come funziona qui in Italia il servizio clienti non si fa trovare facilmente bisogna scegliere il numero giusto quando si chiama altrimenti non vi risponde nessuno oggi per fortuna sono riuscito a parlare con un operatore cioè con una persona ma ho mentito su quello che volevo quando ho dovuto scegliere il pulsante per la mia esigenza ho detto una cosa diversa però funzionato l'avevo provate tutte e finalmente ha risposto un operatore una signora molto gentile mi ha spiegato tutto e molto gentilmente ho protestato un po' per questo sistema che non trovo giusto perché mi sembra che questo atteggiamento serve a diminuire il numero di persone che chiamano quindi serve a far diminuire le persone che chiedono l'aiuto di questi operatori questa è una mia opinione ma non è non è così normale provare per due giorni a contattare il servizio clienti e non riuscire mai quindi ho protestato un po' per questo ma niente di grave dopo questo qualche altra commissione sempre al computer in casa ho tolto qualche punto dalla lista e poi sono uscito per la per la spesa del martedì ormai è una cosa che sapete il martedì mattina io devo uscire per la mia spesa settimanale molto veloce non troppo grande e molto rilassante non c'era molta gente come sempre al martedì al ritorno a casa mi aspettava la prima lezione della giornata molto buona con uno dei dei miei amici più bravi con la lingua che in questo momento in italia e che però ha avuto qualche piccolo problema purtroppo ed è stato costretto a restare qualche giorno in casa per questo mi dispiace molto ma adesso tutto va bene e la situazione è migliorata una buona lezione con lui poi nella pausa pranzo niente pranzo oggi il martedì ormai è il mio nuovo giorno di digiuno il digiuno è iniziato ieri sera alle alle nove e vi anticipo che è andato bene vi dico anche che oggi il registro di sera è un po' tardi sono stanco quindi non vi parlerò per molto come ieri e come vi dicevo niente pranzo perché oggi è un giorno di digiuno è il giorno di digiuno per il momento è solo uno e neanche il tè oggi non ho preso neanche il tè ma c'è un motivo perché oggi non ho scritto quindi non mi sono seduto con la mia tazza di tè per fare le ricerche mi sono occupato invece di altre piccole commissioni per esempio dopo la prima lezione all'ora di pranzo sono andato a teatro anzi non a teatro in farmacia la mia farmacia come ho detto altre volte assomiglia più a un teatro che a una farmacia avevo bisogno delle medicine per il gatto per il mio gatto che non sta troppo bene e ho approfittato dell'ora di pranzo per andare in farmacia la farmacia è aperta tutto il giorno dalle 9 alle 7 e 30 la sera quindi di solito io vado all'ora di pranzo perché perché non c'è nessuno non ci sono molte persone e quindi posso godermi il teatro con calma e anche non perdere troppo tempo perché infatti poi a ritorno a casa dopo una breve pausa c'era la seconda lezione della giornata anche questa molto buona anche questa con un amico che conosco da molto tempo e che parla molto bene l'italiano è una di quelle persone che può riuscire a sembrare italiano anche per un italiano infatti nel sud dell'Italia probabilmente nessuno noterebbe che lui in realtà non è italiano dopo questa dopo questa lezione un pomeriggio abbastanza libero nel senso che non avevo altre lezioni fino alla sera alle nove ma ovviamente io l'ho riempito l'ho riempito di diverse cose prima di tutto ho fatto alcune chiamate proprio per avere informazioni sui lavori che devono iniziare spero presto a casa mia spero di avere una casa rinnovata ristrutturata prima dell'anno prossimo ma comincio a pensare che questi lavori finiranno probabilmente nel 2023 vedremo ma non è un problema però spero davvero che molto presto inizino a lavorare a questo progetto che per me è molto importante a dire la verità bene quindi alcune chiamate ad amici tra l'altro perché la maggior parte delle persone che devono lavorare qui sono miei amici e da molti anni questo per farvi capire che in Italia le persone che fanno gli idraulici gli elettricisti i muratori sono super impegnati e essere loro amico non non fa come dire avere dei privilegi o non accorcia il tempo il tempo di attesa anzi forse è peggio perché quando è un tuo amico è sempre in fondo alla lista perché lui ti può capire e non si arrabbia le notizie che ho avuto sono più o meno quelle che vi ho dato forse per l'inizio di aprile cominceremo a lavorare cominceremo cominceremo a fare le prime le prime cose dopo queste telefonate oggi ho telefonato molto in realtà a tante persone ho provato a lavorare un po' il blog volevo pubblicare gli aforismi sui social gli aforismi della settimana scorsa sui social stranamente questa questa attività è durata più del previsto sono riuscito a prepararne uno ma non ho fatto in tempo a pubblicarlo per tutti voi lo farò nei prossimi giorni questa è un'abitudine nuova dopo un po' forse la settimana successiva pubblicherò gli aforismi di Italiano in Podcast sui social su Instagram su Facebook e probabilmente su Twitter volevo farlo anche oggi non volevo scrivere perché non avevo nessuna idea interessante e non avevo neanche l'umore l'umore adatto però volevo ancora provare a pubblicare qualche contenuto insomma non ho fatto in tempo purtroppo perché nel frattempo è arrivata l'ora della mia corsa le giornate sono meravigliosamente più lunghe il sole questa sera è tramontato dopo le 7 e c'è stata luce fino alle 8 quindi quando sono uscito alle 7 meno un quarto più o meno per fare la mia corsa era ancora giorno c'era ancora abbastanza luce e questo fatto mi dà molta energia è una cosa che mi piace molto avere giornate lunghissime ricarica le mie batterie e mi mette di buon umore e infatti il mio umore era già migliorato ma quando sono uscito e ho visto la luce alle 7 di sera il mio umore è migliorato ancora di più e quindi ero pronto carico con molta voglia di correre ho iniziato la corsa dopo 22 ore di digiuno e credo sia una delle volte in cui ho aspettato di più per correre la corsa è stata molto buona beh ancora non sono al 100% però comincio ad avere una buona velocità molto meno fastidio e anche più piacere nel correre questa sera è stato davvero buono soprattutto nella seconda parte della corsa negli ultimi 5 km ho ritrovato anche il piacere non solo la fatica non solo qualche dolore qua e là ma anche il piacere di correre come sempre nel passato e infatti alla fine della corsa i miei soliti 10 km in poco meno di un'ora 59 minuti e 40 secondi circa alla fine della corsa ero molto rilassato quasi per niente stanco nonostante la mancanza di cibo sì tutto perfettamente in ordine sono rientrato passeggiando a casa e sì devo dire con molta soddisfazione questa è stata la migliore corsa da quando ho ricominciato e quindi è un segno che piano piano la mia forma fisica torna a un buon livello quando arriva il piacere quando è piacevole fare l'attività sportiva vuol dire che sì la forma fisica sta tornando sta ritornando quando sono arrivato a casa erano ormai 23 ore che non mangiavo ma ho fatto un po' tardi per ovviamente fare una doccia e anche per dare le medicine al mio gatto e quindi non ho potuto mangiare ancora perché avevo una lezione alle 9 di sera ho deciso di andare avanti per 25 ore quindi oggi ho mangiato dopo l'ultima lezione molto buona anche questa una buona lezione e ho mangiato dopo 25 ore ma alla fine della lezione ho perso un po' di tempo a fare alcune cose devo ammettere che per un attimo quasi all'improvviso ho rischiato quasi di svenire perché forse ero molto stanco anche non solo per la mancanza di cibo ma comunque avevo davvero ma davvero molta molta fame ho dovuto immediatamente cercare qualcosa di dolce per recuperare delle forze ma ho sperimentato una sensazione che ho sperimentato poche volte nella vita un bisogno fisico del cibo e questo è qualcosa che mi ha colpito molto abbiamo sempre fame durante il giorno no? può capitare ma sentire il bisogno fisico di mangiare è qualcosa di davvero molto diverso dalla fame che conosciamo che conosciamo noi diciamo questo mi ha mi ha colpito molto e è un'esperienza particolare però per fortuna nella mia casa il cibo c'è e non ho da preoccuparmi per questo e quindi dopo questa esperienza molto particolare ho potuto mangiare diverse cose dovrei dire divorare non mangiare perché ho mangiato davvero in modo molto con molta intensità diciamo no? era davvero mangiare per la necessità di mangiare questa è un'esperienza interessante davvero bene ho evitato quindi di svenire ho svuotato il frigorifero no non è così però diciamo che ho fatto una bella cena il tempo di un po' di riposo di recuperare qualche energia e poi per finire la giornata questo podcast una giornata piena di piccole cose ma molto intensa molta intensità e ancora una volta sono davvero contento di questi miei esperimenti con il mio corpo lo torturo un po' ma mi piace osservare gli effetti oggi è stato difficile aggiungere una sola ora a questo digiuno perché fino alle 24 ore non c'è stato nessun problema ma una sola ora in più ha quasi causato davvero un un malore cioè un mi ha quasi fatto sentire male ecco questo è molto interessante non mi era mai successo da quando faccio il digiuno questa sera ho l'impressione di parlare troppo veloce spero che non sia così spero che sia ancora chiaro quello quello che dico se sono stato troppo veloce scrivetemi datemi le vostre opinioni perché per me sono molto importanti mi raccomando ci tengo bene questo è tutto per quanto riguarda la mia giornata non resta che dare un'occhiata alle principali notizie di oggi ce n'è qualcuna e sì più del solito a dire la verità comincio con con una notizia che non è italiana in realtà ma che è mondiale finalmente forse arriva qualche segnale di ottimismo dalla situazione dalla guerra in Ucraina sembra che finalmente ci sia la possibilità di un dialogo costruttivo cioè che può portare dei risultati e tutti quanti noi immagino siamo felici di questo e non vediamo l'ora di vedere non vediamo l'ora di vedere scusate ma è questo la parola giusta non vediamo l'ora di vedere questa guerra finire prima possibile quindi mi fa molto piacere aver letto queste notizie di oggi ma veniamo all'Italia però in Italia la discussione politica che riguarda il nostro paese più importante è su questa piccola crisi nel governo italiano il movimento 5 stelle è contrario a questa idea del governo di aumentare le spese militari italiani il governo vuole dare più fondi alle forze armate quindi ai militari italiani il movimento 5 stelle pensa che sia una come dire una quantità di soldi troppo grande e quindi è contrario questo sta creando questo crea delle tensioni tra i partiti che reggono questo governo tra i partiti che appoggiano questo governo e anche Mario Draghi è un po' come dire non è molto contento di questa posizione del movimento 5 stelle vedremo nei prossimi giorni ma credo che questa sia una situazione abbastanza importante c'è stato un piccolo terremoto a Pozzuoli una città vicinissima a Napoli una città in cui storicamente ci sono stati problemi con i terremoti non è stato troppo forte 3,6 gradi della scala Ritter però è stato sentito molto forte dalle persone forse perché era a una profondità non troppo grande comunque c'è stata un po' di paura perché queste popolazioni sono state colpite molto duramente negli anni 80 da un altro terremoto però per fortuna non ci sono stati danni a persone o anche a case ecco tutto è andato abbastanza bene una notizia un po' curiosa arriva invece dalla Sicilia pensate a causa di questo anticiclone anomalo e di alcune maree particolari è emerso davanti a sciacca un isolotto una piccola isola che era presente in molte carte geografiche del seicento e del settecento ma era scomparsa sotto l'acqua da molto tempo bene in questi giorni invece è di nuovo venuta in superficie a causa di questa bassa marea causata dal caldo e anche dalle maree che in questi giorni ci sono davanti alle coste della Sicilia questo piccolo isolotto si chiama San Giorgio e non si faceva vedere da un po' ma adesso è tornato a salutare la Sicilia da sopra all'acqua una notizia un po' curiosa e mi sembrava giusto darvela l'ultima notizia della giornata anche oggi abbiamo superato i 30 minuti mi dispiace ma questa è l'ultima c'è stata una partita amichevole tra la Turchia e l'Italia e finalmente la nazionale italiana ha ritrovato la vittoria infatti ha battuto la Turchia per 3 a 2 l'allenatore Roberto Mancini ha detto di essere contento di questa reazione positiva dopo l'eliminazione ai mondiali del Qatar e quindi speriamo che questo sia un buon segno per tutto il calcio italiano speriamo che presto l'Italia torni nel gruppo delle grandi nazioni del calcio perché quello è il suo posto scusate ma sono italiano e quindi la penso così bene questa era l'ultima notizia di oggi non resta che l'aforisma prima di salutarvi e andare a dormire finalmente spero spero che siate ancora svegli quindi tenete le orecchie aperte anche per l'aforisma di oggi e poi potete anche fare un pisolino bene la frase celebre dell'italiana celebre o dell'italiano celebre di oggi è questa ognuno si racconta la vita come gli fa comodo una frase interessante di un personaggio contemporaneo molto particolare tutti voi lo conoscete ma in realtà non voglio dire niente perché è una situazione particolare vi invito a scoprire l'autore o l'autrice di questa frase di questo aforisma e vi invito anche a scoprire qualcosa della sua vita e della sua opera ovviamente bene rido perché poi capirete di che tipo di personaggio si tratta e per quale motivo in realtà è un po' diverso dal solito ma scopritelo voi scoprite cosa ha di particolare questo personaggio bene per oggi è tutto qui siamo arrivati alla fine ma ancora troppo lungo mi dispiace ma dai 35 minuti con la mia voce spero che non siano troppi come vi dicevo abbiamo finito per oggi quindi vi ringrazio di avermi ascoltato come sempre vi auguro una buona giornata una buona serata una buona notte e vi do l'appuntamento a domani per un nuovo episodio ma per il momento Paolo vi saluta e ciao a tutti ciao a tutti